Exxon Rattics, oggi sono qua per presentarvi Volkswagen Caddy in motorizzazione 2000 TDI ma andiamo a vedere da vicino, guardate che bello il logo frontale che spicca nonostante sia un veicolo commerciale molto curato nel dettaglio, infatti troviamo cerchi da 16, molto belli, facciamoli vedere qua nel dettaglio già che parliamo di misure andiamo a dirvi che la macchina, anzi il veicolo è lungo 4,50 m è largo 1,86 m ed è alto 1,86 m ma i comfort non iniziano davanti e iniziano dietro dove abbiamo sensori e retrocamera per agevolarvi nelle misure e guardate un po' è super spazioso, per tutte le vostre necessità di carico è la macchina adatta per voi andiamo a vederlo dentro dove troviamo questi sedili con finiture in tessuto, con questa finitura quadrata molto carina poggia braccio per il guidatore e andiamo a vederlo nel dettaglio abbiamo il volante con i tasti multifunzione per i comandi del cruise control e dei comandi vocali e per la navigazione nello schermino che è digitale qua, all'anteriore è digitale anche qua leggermente inclinato verso il guidatore per non distrarvi mai alla guida qui abbiamo i comandi rapidi per il climatizzatore e altre funzioni utili andando in basso abbiamo uno spazzettino per il vostro telefono con due prese di carica il cambio manuale a 6 rapporti, freno a mano elettrico e altri spazi per porre tutto ciò di cui potete avere bisogno questo caddy che state vedendo oggi ha 53.411 km ed è mai tricolato nel 2021